Ufficiale Peschetola, affare fatto anche per Peralta, il trequartista argentino e ormai un giocatore del Foggia. Ha già firmato con il club rossonero e il suo annuncio, atteso ieri, è slittato solo per un documento che il Foggia attendeva via Pec dalla Ternana. Di certo, Peralta si aggiunge ai già ufficializzati Nobile, Nicolao, Di Noia, Peschetola e Oger. È un Foggia comunque col cartello lavori in corso, dentro e fuori dal campo, perché anche a livello dirigenziale le cariche saranno rivisitate e nei prossimi giorni, probabilmente già nei primi della prossima settimana, il club del presidente Nicola Canonico ufficializzerà una sorta di rimpasto dirigenziale con new entry. Va detto che non si tratterà di ingressi nel capitale del club, ma di rivisitazione di incarichi e di nuove figure che saranno immesse all'interno della governanza rossonera. Sempre nei primi giorni della prossima settimana, il Foggia lancerà la nuova campagna abbonamenti. Contestualmente si sta definendo anche l'intesa ormai raggiunta con il nuovo sponsor tecnico. Si tornerà all'antico con il Foggia che tornerà a vestire Adidas, lo storico marchio tedesco, che prenderà il posto di Givova. Tornando al mercato, sondaggio per il giovane Frigerio, classe 2001, di proprietà del Milan. Belviso ha anche preso informazioni per Ferdinando del Sole, 24 anni, attualmente svincolato ma nella passata stagione a Lancona, dove ha totalizzato 24 presenze e 3 gol. In uscita c'è invece Turchetta, richiesto con insistenza dalla Casertana.